A qualche settimana dal voto in Senato è bene chiarire come stanno i fatti al fine che ognuno si assuma le proprie responsabilità. E' quanto afferma il senatore PDL Fabrizio Di Stefano in merito alla discussione sul decreto di riordino delle province. Le proposte avanzate dal CAL regionale al governo, ovvero le due nuove province, L'Aquila-Teramo e Pescarachieti, rammente al vice coordinatore del PDL in Abruzzo, sono state votate dai sindaci di L'Aquila, Francavilla-Penne, San Teofemia-Maiella, Prato-La Peligna, Scurco-La Marsicana, tutti del Partito Democratico, e poi da Fontecchio, area di sinistra e da Calascio, Civico. Il PDL, contrario a queste proposte, annuncia battaglia in Senato. La Commissione Affari Costituzionali, dove era stata sollevata la pregiudiziale di costituzionalità, ha concluso i lavori, ma per mantenere la provincia di Chieti, che ha tutti i requisiti, il senatore Di Stefano annuncia la presentazione di una serie di emendamenti correttivi al decreto entro il 3 dicembre. Abbiamo concluso i lavori della Commissione l'altro ieri, dopo una lunga discussione, sulla pregiudiziale che abbiamo presentato come gruppo PDL al provvedimento, perché riteniamo incostituzionale. Non lo abbiamo messo ai voti, perché la Commissione, noi non avevamo i numeri, perché il Presidente della Commissione, passato dall'altra parte, non ci avrebbe sostenuto. E perché comunque non c'era la possibilità di bloccare l'iter della legge, perché poteva, come annunciato il Presidente in Commissione, andare avanti anche con la pregiudiziale. Questa pregiudiziale che però riproporremo in aula e lì, se dovesse essere votata e approvata, bloccheremo l'iter. Perché riteniamo che l'iter sia contorto e non sia corretto. Perché un decreto legge è un provvedimento che si fa d'urgenza. E l'urgenza di una legge che deve essere applicata tra un anno non vediamo dove sia. Perché riteniamo che la Corte Costituzionale si debba pronunciare prima su questo punto, e cosa che ha ancora fatto incredibilmente, inaspettatamente. Perché crediamo che si debba provvedere a, e se non lo fa questo Governo, lo fa il prossimo, ma non certo perché questo Governo, ma in scadenza, lo debba fare in 40 giorni. Tanti ne sono rimasti per la scadenza del provvedimento.